Nel 2020 la Toscana ha perso circa 3 miliardi di euro di fatturato, oltre 20.000 posti di lavoro e circa 1.000 imprese nel solo settore pubblici esercizi. È quanto emerge dal rapporto annuale sulla ristorazione realizzato dall'ufficio studi di FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Il dettaglio è confermato da Confcommercio Toscana. Oltre 3 miliardi sono stati il danno subito dalle imprese nelle ultimi 12 mesi in termini di calo di fatturato. 20.000 sono stati posti di lavoro persi nel mondo della ristorazione e già 1.000 aziende hanno cessato l'attività. Su questo dato ritengo che sia solo l'inizio perché sono quelle aziende che hanno deciso di cessare, ma ce n'è ancora una gran parte che sta ancora valutando se ha le condizioni di poter continuare le attività. Ora si vede una prospettiva di riaperture, quindi sia in orario serale che in attività da poter svolgere al chiuso. A nostro avviso la risposta è stata troppo timida perché andava anticipata ulteriormente. Il rapporto di FIPE ha messo anche in evidenza l'insufficienza dei ristori stanziati finora, con il 23% delle imprese che non li hanno ricevuti per difficoltà burocratiche ed un settore che a livello nazionale ha perso quasi 250.000 posti di lavoro. La Federazione Nazionale dei Pubblici Esercizi parla del 23,5% delle aziende non hanno ottenuto i ristori per cause burocratiche, quindi per carenze che derivano o dal codice Ateco o da dinamiche proprio amministrative che non hanno permesso di ottenerle. Oggi siamo anche nella consapevolezza a questo punto di superare quel binomio che ha purtroppo caratterizzato lo scorso anno, la convinzione sbagliata che la ristorazione fosse portatrice di aumento dei contagi. I ristoranti sono aperti, soltanto all'esterno, ma comunque sono aperti da settimane e i contagi non sono cambiati, anzi sono in diminuzione.